good morning oggi stranamente live non alle 3 di notte pazzesco aspettate che devo aggiustare sta luce che la passo un po mi sono accecata ciao allora sono in condizioni un po improponibili cioè mi sono appena fatta la doccia i capelli li ho lavati ieri sera quindi non li ho rilavati quindi sono asciutti cioè sono un po bagnati comunque mi sono fatta la doccia adesso mi devo truccare in sintesi perché devo uscire con delle mie amiche vado a pranzare a camden town quindi aspettate un secondo che ieri ieri mi sono truccata cioè ieri sera sono uscita con altre mie amiche e tipo ho fatto un video su tiktok in cui facevo vedere io che mi truccavo e niente tipo tiktok ha deciso di bannarmelo perché chiaramente no è vietato truccarsi su tiktok a quanto pare quindi ho detto vabbè mi tirava troppo il cura allora ho detto vabbè per rimediare farmi passare un po il nervosismo ora mi trucco su instagram allora volevo mettere un po di musica sotto ma se non mi bannano la live quindi devo stare attenta volevo mettere la mia playlist di natale tra l'altro non ho tanto tempo per truccarmi ciao a tutti non ho tanto tempo per truccarmi e quindi niente quindi vediamo un po live non notturna scioccante io lo so lo so che non eravate mentalmente pronti ad affrontare questo step però era ora era ora e comunque era che faccio davvero cagare cioè mi sto guardando amma mia che paura e quindi nulla ora ci trucchiamo intanto iniziamo con la crema devo iniziamo bene devo scegliere quale mettere di queste due questa non l'ho mai messa day cream 24 hour moisture e invece questa è refreshingly soft non lo so non lo so ti sta piacendo londra sì un sacco e più la vedi cioè londra una città che più la vedi più cose capisci di non aver visto cioè nel senso è pieno di locali di posti vabbè metto questa intanto metto la crema è piena di posti belli ma anche nascosti cioè nel senso tipo ogni strada c'è una chicca nascosta d'altra me sembra che abbia messo pochissima crema ma vi giuro che c'è vedete che sono luccicante quante ore ci sono diffuso l'aria una quindi da me sono le 12 e 48 mi sto cascando il telefono allora la musica volevo mettere la mia tanto amata playlist di natale ok speriamo si senta qualcosa ma non troppo perché sennò per stavo dicendo sennò per instagram non va bene io dovrei uscire tra 10 minuti comunque non mi manca tanto da fare se vedete che ho gli occhi un po ancora neri è perché ieri c'avevo il trucco nero che ho tolto però sapete lascia sempre un po' tra l'altro raga adesso vado a pranzo ma devo tornare non troppo tardi cioè devo tornare abbastanza presto perché devo studiare biochimica raga vi giuro troppe cose troppe cose da studiare ho paura che si senta troppo perché vabbè comunque avete un'idea di che canzoni le sto ascoltando se si blocca live è per la musica quindi ne varrà la pena comunque allora abbiamo messo la crema siamo tutte belle incremate allora io dicevo che di solito tolgo prima le cose che mi servono perché così dopo non ho problemi a trovarle quindi oggi facciamo un trucco abbastanza light perché comunque andiamo fuori a pranzo vorrei provare a fare tipo un no makeup makeup look non so se avete presente però è tipo c'è un trucco che tu hai trucco addosso ma non si vede che c'è il trucco allora mettiamo un correttore così io poi lo metto sempre anche bene qua sotto perché secondo me quello fa un sacco l'occhiaia cioè tipo se tu ti metti il correttore proprio qua sotto l'occhio te lo illumina un sacco di più quindi vabbè poi mettiamo così e poi così e così c'è qualcosa che devo assolutamente coprire sì un po' vabbè vabbè poi io stendo con le dita perché sono professionali in quello che faccio facciamo così comunque ragazzi state facendo tipo scrivendo cose io non vedo cioè non so perché non vedo i vostri commenti quindi se non risponde per quello penso però volevo rispondere provate a scrivere qualcosa vediamo se si sblocca allora voilà mettiamo un po' così che tra l'altro così cioè non so se è una cosa buona o una cosa cattiva però io sento che sia una cosa buona ovvero che la crema si mischia al correttore quindi diventa tipo correttore idratante capito cioè mi fa che fa meno male alla pelle però io non vedevo altri si sblocca che paolo perché non si sblocca noi raga non vedo i commenti cioè ci potrebbe essere in live che ne so qualcuno che conosco capito che magari mi sta scrivendo dei messaggi io non li vedo ma se la stop ricomincio ok la stop ricomincio così